io ho ascoltato ieri la conferenza stampa del presidente del consiglio che ho trovato per un verso sconcertante per un altro verso insopportabilmente demagogica sconcertante perché all'inizio della conferenza stampa ha delimitato il recinto nel quale i giornalisti potevano muoversi. È francamente incredibile che il presidente del consiglio dica ai giornalisti le domande che possono fare o che non possono fare. Queste cose avvengono nelle democrazie cosiddette protette. Ovviamente il presidente del consiglio è libero anche di mandare al diavolo il giornalista che fa la domanda o di non rispondere, ma non credo che possa delimitare l'ambito delle domande. A me pare che stiamo in un paese nel quale si è determinata una sorta di narcotizzazione della ragione critica che mi auguro sia ritrovata quanto prima possibile. Poi l'ho trovata insopportabilmente demagogica. Ha parlato per mezz'ora insieme con il ministro della pubblica istruzione contro la didattica a distanza generalizzata che non ha chiesto nessuno in Italia.